saremo sempre più soli saremo sempre più single e questa la fotografia che ha fatto l'istat le nuove previsioni sul futuro demografico del nostro paese sono aggiornate a 2021 e che cosa confermano sostanzialmente confermano il tracollo della popolazione e vi do qualche numero da 59,2 milioni all'1 gennaio 2021 si passerà a 57,9 milioni nel 2030 e dai 54,2 milioni del 2050 fino a 47,7 milioni nel 2070 ma le famiglie cambieranno entro il 2041 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli quindi immaginatevi tante famiglie senza figli e qual è secondo l'istat la conseguenza di tutto questo è perché c'è un invecchiamento della popolazione c'è l'aumento della speranza di vita e quindi tante persone che sono sole calo della natalità e anche e qui veniamo al dunque tantissima instabilità coniugale tanti matrimoni e tanti legami di coppia che non funzionano e tanti genitori soli e tanti figli che soffrono e questo che ha spiegato l'istat nell'ultimo rapporto presentato poche ore fa e ci ha spiegato anche che le donne sole sono aumentate ad aumentare sono destinate ad aumentare sempre di più da 4,9 a quasi 6 milioni con una crescita del 22,4 per cento insomma siamo sempre più soli ci dice l'istat abbiamo sempre voglia di meno voglia di fare figli e pensate che cosa sarà la nostra società dopo quello che è successo con la pandemia e questa idea che dovevamo essere sempre più isolati e adesso cosa sta accadendo con la guerra e che cosa potrà accadere se quello scenario che Putin sta ipotizzando anche di usare armi atomiche e nucleari come giustamente ci ha fatto riflettere il nostro premio nobel qualche ora fa siamo di fronte a una catastrofe e non ci rendiamo conto di quanto saremo non solo più in pericolo ma anche più soli e tutto questo ci rende ancora più fragili ci rende ancora più incapaci di progettare ancora più incapaci di essere noi stessi nel quotidiano e quindi cosa dire speriamo 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 oggi saremo per tutto il giorno nella possibilità di esprimere un voto da domani sapremo quale sarà il nuovo governo del nostro paese e chi per noi prenderà decisioni che in questo momento sono importanti per noi per i nostri figli per i nostri nipoti ma soprattutto decisioni che devono puntare a farci sentire meno soli e più individui che fanno parte di una comunità in un mondo globalizzato